La città metropolitana di Firenze prosegue gli interventi per il consolidamento e la ristrutturazione del ponte sull'Arno in località San Clemente e ne ha disposto a riguardo la chiusura alla circolazione sulla SP18 Braccio di San Clemente tra i comuni di Reggello e Regnano sull'Arno dalle 14 del 1 marzo alle 6 del 2 marzo e dalle 14 del 2 marzo alle 6 del 3 marzo 2017. È stato disposto che tutto il transito veicolare sia deviato provvisoriamente sulla SR69, ponte di Pian dell'Isola, strada comunale di Pian dell'Isola e viceversa. Sul ponte sarà consentito il transito a pedoni con cicli e motocicli condotti a mano. In un incontro con l'amministrazione comunale la città metropolitana di Firenze ha presentato il progetto definitivo per completare la circonvallazione del capoluogo, un'opera che da anni attende la conclusione. Sarà compiuto un necessario passaggio per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, mentre il progetto esecutivo dovrebbe essere pronto entro il mese di maggio.